Ciao Jeffrey, amico mio, come stai? Bene, grazie. Tutto casino a parte, tutto ok? Tutti belli incoronati, come dico io, a casa, però insomma, ci permette di fare cose, altre no, immagino per voi che casino, perché insomma con tutti i concetti che avevate in ballo, porca miseria, vabbè, insomma, dai, bisogna tenere duro e quando si ripartirà bisogna ripartire alla grande. Cosa dobbiamo fare? Adesso si deve lavorare per il futuro, per un futuro diverso sicuramente. Bene, ma dimmi caro ragazzo, come ci siamo conosciuti? Giovincello, perché tu sei un giovincello rispetto a me. Allora, aspetta, da che ricordo io, io arrivo a conoscerti tramite Massimo Gabutti. Assolutamente. Mi ricordo che eravamo venuti su, era il 93, intanto, lontano 93, parca puttana, si va per i 30 anni, non è uno scherzo, ne sono già 27, parca troia. Era più o meno sto periodo qui, aprile, marzo, sì, sì, era marzo, aprile del 93, perché io ricordo di aver fatto ingresso in Bliss fine gennaio, quindi da che poi è arrivato People Have The Power, stiamo parlando di fine marzo. E mi ricordo che con Massimo siamo venuti a trovarti, per me una delle cose più simpatiche di quel momento lì è che io ti avevo chiesto se c'era dell'acqua lì nello studio, perché eravamo in studio. Sì, sì, abbiamo un drone. Sì, io ti ho chiesto se c'era dell'acqua, e tu mi hai detto, sì, guarda, subito qua sotto, sotto di te c'è una botola che devi tirare sul pavimento, e sotto terra, e lì sotto terra c'è una cantina dove teniamo l'acqua fresca, mi hai detto. Ah, perché facevo quel gioco che camminavo sotto, facevo finta di sparire dietro a Mizzera, e me l'aveva insegnato Silvio Melloni. Io, convinto, cercavo sta cacchio di botola da tirare fuori, Massimo che scassava proprio da ridere, e tu che mi guardavi come veniva veramente ci hai creduto. E io arrivo a conoscerti così, quindi nel lontano 93. Che avevate fatto Blisteam, che mi ricordo che io vi consigliai di richiantarlo, o di ricantare una parte perché non mi sembrava proprio precisa. Tu che poi eri uno che ha dimostrato dopo di cantare, di essere uno molto preciso, c'era qualcosa che non mi... Forse perché c'era un effetto che magari lo stonava un po' troppo, tipo un auto più no. No, in realtà quello che era successo è che noi avevamo fatto un take così, alla buona, senza stare a studiare troppo il pezzo, eccetera, perché inizialmente serviva come demo per il coro. Ah, ho capito. Serviva come demo per il coro, quindi Massimo mi ha detto, guarda, non ho una donna in studio che mi può cantare sto demo qua, hai voglia di far tu un demo, poi cambieranno la tonalità, vedranno loro. Mi fa, butta giù... Ah, ma pensa, era un pezzo per il coro, ma sai che io non me la ricordavo sta cosa, bellissima. Allora, la canzone era per il coro e Massimo appunto mi fa, perché non lo canti tu, io gli ho detto, va bene, dai, proviamoci. E abbiamo fatto un take così, alla buona, non era tutto proprio perfetto, c'erano alcune zone un po' così, perché poi io la cantei a voce piena, non cercando di fare qualcosa che potesse poi riflettersi su un take femminile. Certo. E quindi quello che arrivò a voi, in realtà, era un demo. Infatti Massimo poi tornò da Milano, quando l'aveva fatto sentire a te, a Stefano Secchi, eccetera, in cui mi disse, guarda, ti do una brutta notizia e te ne do una bella. Comincio con la brutta notizia che il coro non l'ha preso. Non l'ha preso. La bella notizia invece è che vogliono che esca così con la tua voce. Certo. Io sono rimasto, penso, almeno una decina di minuti senza parole, perché non me l'ha aspettato. Beh, ma però pensa da ricantare delle cose perché non vanno bene, ci sono alcune parti da ricantare. La strofa, per esempio, era completamente diversa da quella che era la strofa di Patti Smith. Era stata ricantata in una chiave con un'interpretazione abbastanza libera e poi il ritornello chiaramente ricalcava l'originale. E c'erano alcune parti dello ritornello che non erano proprio azzeccata a livello di tonalità. Però lo cantai uguale e da lì poi parti tutta la macchina. Porca miseria, pensa che roba, eh. Guarda a te molte volte che cosa succede per caso. Perché per caso, come d'altronde, è partita anche la macchina di blu. Quando avete fatto blu, non è che è partito, cioè, è partito per caso. Il pezzo significativo nell'Italia, hai capito? Cioè, è partito un po' per caso. Perché voi, mi ricordo che facevate cose, cose per, non per il Giappone, per l'India, insomma, per questi paesi. Pepe, e questo pezzo è venuto fuori facendo queste cose qua, no? Mi sembra. Che poi però avete detto, aspetta però, questo qui non è che sia tanto una facciata B. Cioè, almeno voi vi sembrava... Perché voi facevate cover, però mettavate anche dei brani vostri, giusto? Ma in realtà blu nacque in maniera autonoma da tutto quello che era il lavoro lì. Dalla Cina, eccetera. Nasce in realtà da un arpeggio di piano di Mauri, che Massimo ascolta e dice, ma che cos'è sta roba? Mi fa, beh, non lo so, c'è sto arpeggio che mi piace. A Massimo piacque tanto l'arpeggio. Fa, boh, proviamo a farci un pezzo di sta roba. Io, in quel periodo lì, che era un periodo, un po' di transizione per la Bliss, da buon nerd che sono sempre stato, mi occupavo appunto di aggiustare, diciamo così, mettere in ordine tutti i computer della Bliss. E passavo proprio in quel momento lì, stavo facendo un check sulle scritte, che demanda di tutti i computer per vedere se erano aggiornate. E Massimo mi fa, lascia perdere qualunque cosa stai facendo. Senti questo pezzo, perché secondo me è forte. Insomma, poi una volta lavorato al pezzo, che è uscito, parliamo di ottobre del 98, non fece nulla, o almeno faceva. No, no, mi ricordo che Emilio la notte vi chiamò, perché sai, io e Massimo siamo sempre rimasti in contatto con me con te, siamo sempre amici, e gli disse, ascolta Massimo, guarda che quel brano che mi avete mandato non fa promozione, non fa niente, ma io continuo a vendere i vinili. Cioè, continuo a vendere i vinili di sto disco qui. Guarda che c'è qualcosa. Perché non gli cambiate l'etichetta, lo ributtate fuori, provate a fare un po' di promozione? Credo che sia andata così, no? Mi sembra anche. No, in realtà, quello che poi è successo, che ovviamente le persone che lo compravano e lo mettevano notavano l'effetto di questa cosa qua. si creò una macchia d'olio che piano piano rese il brano sempre più popolare e nel giro di, mi pare, 4-5 mesi vendette una cosa tipo 2.000, 3.000 euro. Sì, sì, che dici, da solo. Anche poi a Massimo arrivò una chiamata di Ravelli, da disco radio, gli fa, guarda, c'è questo pezzo qua che lo metto e mi va bene in pista e ti dispiace se lo metto per radio? Sì, Massimo, con grande dispiacere. Mi ricordo che gli aveva proposto una cosa tipo, guarda, ti do 20 vinili di promozione se ti piace e così magari lo distribuisci tra i DJ con cui lavori, in radio, eccetera, e per noi è ok, anzi, siamo contenti che lo mettiate. E da lì un po' è tutto partito. Poi c'è stata una fiera, mi ricordo che c'è stata una fiera, in quel momento lì a Rimini c'era una fiera, no? Che non era in Mide, ma era una fiera che facevano in Italia, adesso non mi ricordo. E io mi ricordo che incontrai Albertino e gli dissi oh, Albertino, guarda che Massimo ha un pezzo molto forte. Lui diceva, ah sì, ma mi ha andato una cosa in radio, eh, devo sentirlo. E dopo è andato e poi è partita. E mi ricordo che ero da Massimo, che eravamo alla Do It, va bene, che lui mi parlava e sentimmo, credo, Blu per la prima volta, a Radio DJ, quando eravamo lì alla Do It. Massimo mi dice, ma dai, ma questo è il pezzo, e passa a Radio DJ, e gli ho detto, porca miseria, vai, è grande! Cioè, quindi bellissimo, perché poi, capito, poi è chiaro che suonandolo Albertino è diventato... Sì, diciamo che il là di Radio DJ ha aperto chiaramente una valanga di cose poi successe, che tra il festival, il bar, la Germania, tutto il lavoro con la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, poi gli Stati Uniti, insomma... Sì, ma avete fatto una roba, mi ricordo quando siete partiti per gli Stati Uniti, che avevate Pullman, dove dovevate fare anche l'album, insomma, quindi facevate le cose mentre andavate in giro, una cosa che... Non c'era la tecnologia di oggi. Non c'era la tecnologia di oggi, cioè, quindi... La casca d'audio sembrava una roba tirata fuori da un brutto film di fantascienza anni 70. Poi figurati tu che già eri uno che le faceva andare meglio degli altri, quelle cose lì, perché in realtà ci smanettavi, quindi... Non ho idea quanto, in giro spesso mi sono trovato a riparare il computer con cui suonavamo, e a 4-5 ore dal concerto, quindi... Era divertente. Bello, però, guarda, queste qui sono cose che... Mi piace anche raccontare, perché diventano un po' dei documenti che poi rimangono, non capisci? Perché adesso sembra... Sembra... Adesso sembra tutto facile, vabbè, cosa avevano? Prendevano un portatile, attaccavano e andavano, no, aspetta un momento. Non era proprio così una volta, non era così. No, diciamo che il vantaggio di una volta era il tuo svantaggio, nel senso che le cose non c'erano tanti plug-in virtuali, per cui o avevi il sinto o non ce l'avevi. E quando ce l'avevi, era un miracolo che tu potessi averlo, quindi ne avevi pochi, e quei pochi li conoscevi a memoria. A memoria. Riuscivi a programmare così bene, perché avevi solo quello, e smanettavi continuamente con quello per ottenere l'altro suono, e diventava giustamente un mezzo molto importante, perché lo conoscevi molto bene. La tanta scelta di oggi ha sicuramente portato a una qualità molto, molto superiore in termini di suono e di arrangiamento rispetto a un tempo, però per chi inizia, diciamo che è quasi guidato dai preset, che non un vero e proprio programmatore, come lo diventavi ai tempi, perché è riforzato a diventarlo. Certo, no, ma anche perché adesso poi, io lo dico sempre anche ai ragazzini, va bene tutti i preset, va bene le centinaia di migliaia di scelte che avete, però quando poi fate un suono vi verranno a dire ah, sembra il suono degli Eiffel, ah, sembra il suono di Gigi D'Agostino, ah, perché certo, se usate i preset, cercate di elaborare, di mischiare. Io ne conosco alcuni che sono molto bravi a fare questo, e infatti tendenzialmente sono dei ragazzi che sono un po' più avanti rispetto a chi inizia con i preset. Certo, certo. Però bene, dai, cioè, va a vercere. Sì, va bene, va bene, assolutamente. Caro Jeffrey, guarda, mi è fatto molto piacere sentirti, è bello anche perché abbiamo parlato di cose che magari non si, magari voi avete raccontato nelle vostre interviste, però questo essendo una cosa che viene legata a un libro, cioè, uno se lo può andare a rivedere, poi gli rimane nella storia, e quindi mi fa piacere perché, insomma, poi siamo amici e ti trovo bene, e sono contento. Caro amico mio, un abbraccione. Un abbraccio forte, fratello. Ciao, bello. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.